mancano 124 giorni alla fine dell'anno siamo sotto il segno della vergine la chiesa ricorda il martirio di san giovanni battista l'onomastico oggi è l'onomastico di sabina e sabino il nome ha origine latina e significa nativo della sabina il numero porta fortuna è il 10 il colore è il blu e la pietra associata lo zaffero accadde oggi il 29 agosto del 1966 a san francisco i beatles si esibiscono per l'ultima volta in concerto al candlestick park chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 29 agosto ricordiamo l'attrice svedese ingrid badman e il cantante michael jackson la citazione del giorno non imitate nulla né nessuno un leone che imita un leone sembra una scimmia victor hugo dice il saggio l'uomo ama poco e spesso la donna molto e raramente il bel paese la chiesa di santa caterina a lucca è uno splendido esempio di arte barocca rimasto chiuso per oltre 40 anni questo bellissimo edificio rischiava il crollo ma grazie all'intervento del fai è stato recuperato e riaperto al pubblico la pianta della chiesa è ovale e l'interno è riccamente decorato ma quello che rende straordinario l'edificio è la bellissima cupola da cui attraverso un oculo è possibile ammirare un affresco sospeso fissato su un lato al legno del sottotetto che raffigura santa caterina tra gli angeli grazie a tutti grazie a tutti